ragazzi ora possiamo guardare aspettare due minuti sono pochissimi due minuti e trenta a partire da adesso due minuti e mezzo quindi vediamo veramente cosa accadrà in questo terremoto sono molto molto curioso anche quello che potrebbe accadere non ho proprio idea speriamo qualcosa di bello raga like al video quando lo caricherò chi pensa che è successo qualcosa di bello ovviamente prima di mette like guardate c'è un bel commentino qua sotto prima di guardare la scossa di terremoto se è successo qualcosa a pinnacoli pendenti mi raccomando seguitemi su instagram vabbè lo sapete ormai noi signereo official page subito questa scossa manca un minuto e 25 o da adesso ok per col sito qua ovviamente che mi ha mandato ovviamente danni che non è il team rave e raven lo conoscete l'ultima membro del team grazie vani quando ragazzi carichi manca un minuto preciso da 5 4 3 2 1 un minuto raga speriamo mi bacio le mani speriamo succeda qualcosa becca alle 22 alle 22 ero previsto un evento alla bosco bladenante ma non è successo esattamente niente io pensavo si bruciasse tutto invece no però staremo a vedere invece questo terremoto sicuramente perché adesso abbiamo visto il sirio di terremoti della dei terremoti di fortuna penso che questo sia vero 20 secondi da adesso 20 secondi ragazzi la possiamo fare un bel cartellino rossa pinnacoli espulso pinnacoli raga voglio tutti col cartellino rosso espulso pinnacoli non ti vogliamo vedere eccolo raga dove dove non ho idea non ne ho idea dove sta la crepa questa già c'era penso il palazzo di pinnacoli tutto a posto ora ragazzi vabbè io ricarico ovviamente la clip e noi ci vedremo prossima situazione poi vedremo ma ragazzi domani mattina sicuramente sicuramente andremo in live vedremo ho per caso di dire tantissime cose sulla seta notte anche se sto cercando di non spoilerarmi un milione patrizio di sfido ho fatto un milione con questo coso vedi di riuscirmi a battere vabbè ragazzi salzo ciao 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 ciao